Ci sono state delle sfide importanti, soprattutto ci siamo concentrati molto sulla pandemia. Il Covid ha determinato delle scelte organizzative importanti per questa AS e comunque siamo riusciti a gestire tutta la gravità della pandemia in maniera egregia, grazie anche allo sforzo dei nostri operatori, grazie alla sinergia, al lavoro di squadra che c'è stato in questa azienda, che è determinante e su cui noi mettiamo le fondamenta per lavorare anche nel futuro. Un'altra importante attività che abbiamo messo in campo è quella del ripensamento completo della gestione territoriale. La pandemia ci ha insegnato tanto su come intervenire sulla gestione sanitaria e territorio e noi siamo riusciti, grazie alla volontà di tutti i miei collaboratori, a mettere in campo delle azioni ben focalizzate su questo. In primis l'apertura delle USCA nei vari distretti provinciali e soprattutto il progetto Agicot che abbiamo messo in campo con il Ministero e con la Regione Abruzzo per la presa in carico del paziente. ospedaliero. Dopodiché dobbiamo dire che nonostante la pandemia, nonostante l'energetico, la guerra e altre situazioni che abbiamo potuto sanare siamo riusciti a rendere il bilancio sostenibile e questo dobbiamo ringraziare anche la Regione Abruzzo che ha incrementato il finanziamento del fondo sanitario. Tutte le attività che abbiamo messo in campo per quanto concerne l'aggiornamento del parco tecnologico abbiamo dotato l'ospedale di una nua PET, di una risonanza di Tesla, stiamo dotando tutti gli ospedali di nuove attrezzature importanti, risonanze e altre. La sfida più grande è quella delle liste attesa che è un problema annoso, un problema che coinvolge tutta la nazione, non è solo un problema nostro, è ovvio. Però noi dobbiamo pensare a noi stessi, su questo fronte io metterò la faccia, adesso faremo un gruppo di lavoro dedicato a questo per far sì che il disagio del cittadino abbia un peso minore. Non dobbiamo far sentire il disagio al cittadino della lista d'attesa di andare a prenotare una visita e gli viene data una data a un anno. È assurdo e vergognoso. Lo dico io per prima e quindi bisogna fare in modo che questo non accada. E soprattutto ecco dopo c'è la sfida del nuovo ospedale, su cui stiamo lavorando in stretta sinergia con la Regione, affinché a breve si abbiano dei frutti.